Emergenza coronavirus Siamo in centro storico in piazza della Pomposa in una Modena che appare quasi spettrale Abbiamo appena incontrato un residente che vive in questa piazza che ci ha detto Stiamo apprezzando più la movida notturna adesso che non c'è e ci manca rispetto a prima Forse era meglio qualche voce di troppo piuttosto che nessuna come adesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti